Anticipazioni Grande Fratello. Esito Televoto, Trefinalista, Gisueppe e Bea che c'è realmente. Light Federico Alessio. E veniamo adesso a parlarvi del Grande Fratello con le anticipazioni di stasera che appunto riguardano quanto accadrà in serata. E avendo appena letto il sutto vi diciamo che ce ne saranno delle belle. Ricordiamo che il Grande Fratello hanno deciso di terminare il programma una settimana in anticipo per permettere ai concorrenti di festeggiare la Santa Pace con la famiglia. Vi diciamo subito che rispetto alle anticipazioni fornite dal programma ce ne sarà una in più che recita in più, ma andiamo con ordine. Ci sarà ovviamente il risultato del Televoto per stabilire il nominato della casa che dovrà uscire dal Grande Fratello e da quale che risulta dai nostri dati c'è un grosso bilico fra Anita Olivieri e Greta Rossetti a tal punto che è veramente molto complicato anche, per noi potervi dire chi uscirà realmente stasera, propendiamo per Anita, ma i dati sono veramente molto molto ravvicinati. Ci sarà poi un'altra eliminazione flasse e verrà deciso il terzo finalista sempre tramite Televoto. Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi non la raccontano giusta, fra di loro strani amicamenti, cosa ci nascondono? Ne parleranno stasera con Alfonso Signorini e Cesara che interrogeranno il Calabrese e Beatrice, ma qualcosa bolle in pentola. Anita Olivieri e Alessio Falsone come va la coppia? Ce la faranno ad uscire insieme dal Grande Fratello? I due hanno avuto in questi ultimi tre giorni delle discussioni molto accese e ancora non si comprende bene come stiano le cose fra di loro. Brutta e accesa lite stamattina fra Federico Massaro e Alessio Falsone. Per poco la situazione non è degenerata, riferisce per la che Alessio avrebbe detto delle parole pesanti a Federico. Grazie a tutti.